La Francia rinvia senza precisare a quando la consegna della Mistral, la prima di due portaelicotteri, alla Russia. L'annuncio arriva con un comunicato ufficiale dell'Eliseo. Nella nota si legge che a impedire l'evasione dell'ordine è l'attuale situazione in Ucraina. Nel 2011, sotto la presidenza Sarkozy, Mosche e Parigi, avevano firmato un contratto per un valore pari a 1,2 miliardi di euro, un accordo commerciale che aveva provocato proteste da parte dei Stati Uniti e Nato. La Russia ha fatto sapere che per il momento non intende ricorrere alla giustizia.